Dopo la denuncia di un automobilista, i poliziotti del commissariato di Mesagne nel Brindisino hanno colto in flagranza di reato due persone, entrambi nomadi, che secondo quanto accertato stavano per inscenare la cosiddetta truffa dello specchietto. Si tratta di Angela D'Amico e Francesco Fiasquet, entrambi di 27 anni, originali del Siracusano, denunciati per delibero per tentata truffa, oltre che destinatari di un foglio di via con divieto di ritorno a Mesagne per tre anni. Qualche giorno fa una persona alla guida della sua auto, vicino ad un'Alfa 147 nera, aveva sentito un rumore. Dallo specchietto retrovisore aveva poi scorto un uomo in moto che lo aveva poi raggiunto a casa, chiedendogli 15 o 20 euro quale risarcimento di uno specchietto rotto durante il transito con l'auto. La vittima si è rifiutata di pagare e ha contattato la polizia riferendo con precisione modello dell'auto, numero di targhe e numero di persone a bordo, 5 in tutto, tra cui anche 3 bambini. Le indicazioni fornite hanno permesso di individuare nuovamente la stessa vettura con le medesime persone a bordo. A carico dei due denunciati risultano altri precedenti di polizia dello stesso tipo.